oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro 8 di torino radio news racconto testo mulan testo dedicato a tutte le donne da parte di fabrizio adesso basta ho sentito tante cose su di te fa mulan hai rubato l'armatura di tuo padre sei scappata di casa ti sei travestita da soldato hai ingannato il tuo comandante disonorato l'armata cinese distrutto il mio palazzo e hai salvato tutti noi con queste poche righe vorrei dire quanto sono preziose e importante le donne in onore a tutte le donne la storia di mulan è la mia preferita in quanto mette in risalto la forza e la capacità di una donna e dopo le vicende successe alle donne bisogna solo che ricordarsi di avere rispetto verso di loro e l'imperatore si inchina di fronte a lei per la capacità di questa donna ciao a tutti e vi ringrazio per ascolto alla prossima puntata buongiorno a tutti io sono simone armiento e io sarà e noi siamo venuti qui perché vogliamo portarti questo vogliamo portarvi questo estratto del film hotel transilvania scena 1 con due personaggi e iniziamo buongiorno mevi baby tanti auguri topolina mia grazie papà lo so che è mio compleanno il programma di oggi è uno spasso yahoo ma prima andiamo a caccia di scorpioni insieme solo noi due smortina mia papà ti prego lasciami parlare dobbiamo fare un bel discorso vuoi andare a scoprire il mondo puoi farlo ah ah sapevo che l'avresti detto ma papà mi hai dato la tua parola e tu sai che io io so che la parola di dracola è sacra che la fiducia al tuo cuore del aspetta come ho detto puoi fare puoi andare mi prendi in giro vero no 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 sei abbastanza grande per guidare un carro funebre e lo sai anche per fare le tue scelte puoi andare sangue di platta sangue di platta aspetta 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 ferma aspetta un secondo sanguisuchella dove stai andando oh beh sto andando in paradiso e qui c'è un po di roba che mi può servire in paradiso si è presente quel posto dove vi siete conosciuti tua mamma sai vanda dice che avete fatto tipo zing ah non so questo zing dove hai trovato questa cartolina in un tuo cassetto perché non mi dici come vi siete incontrati si chiamano hawai buongiorno a tutti io sono dario e io sono francesco e per l'operatorio aspidab vi presentiamo ismen 2 scena 6 buongiorno signor presidente la prego non si allarmi non ne teniamo a fare del male a nessuno voi chi siete noi siamo mutanti il mio nome è charles saver si siete pure preferisco stare in piedi rogue questi documenti provengono dall'ufficio privato di william straker come li ha avuti beh diciamo soltanto che conosco qualcuno che passa attraverso i muri non era al corrente di queste informazioni lo so saprà anche che non reagisco bene alle minacce signor presidente questa non è una minaccia questa è un'opportunità ci sono forze a questo mondo siamo tante che umane convinte che ci sarà una guerra lei la vedrà da questi documenti che qualcuno già tentato di mettere in atto già ci sono già state vittime e perdite da entrambe le parti signor presidente quello che sto per dire quello che sta per dire al mondo è vero questo è un momento speciale un momento per ripetere gli errori del passato o per costruire un futuro migliore insieme siamo qui per restare signore la prossima mossa è sua grazie a tutti ciao anzi bentornati io sono lorenzo e adesso passiamo al secondo argomento sebastian stan il soldato d'inverno marvel interpreterà donald trump e un nuovo film tutti i dettagli principali a vestire i panni di vana trump nel film diretto da un apprezzatissimo regista sarà un'attrice candidata al premio oscar allora dall'universo marvel atomili a donald trump e senza dubbio una parabola strana quella di sebastian stan attore anzi l'attore apprezzato conosciuto soprattutto per aver interpretato il soldato d'inverno nei film di capitan america e degli avengers e ora è ora pronto a vestire i panni di una delle personalità più controverse della storia americana stando a quanto riportato da la deadline sebastian stan è stato scelto per interpretare un giovane donald trump nel film di apprentice che sarà diretto dall'acclamato regista di holy spider e di alcuni episodi della serie tv di the last of us ovvero l'iraniano ali abasi presentato come un'esplorazione anzi presentato come un'esplorazione del potere e dell'ambizione e ambientato in un mondo di corruzione inganno di apprentice esaminerà gli sforzi di trump per costruire la sua attività immobiliare a new york negli anni 70 e 80 scavando anche nella sua relazione con il famigerato avvocato roy kohn viene anche descritta come una storia di mentore protetto che traccia le origini di un importante di una importante dinastia americana sempre secondo le fonti sono stati rivelati anche gli interpreti dell'avvocato e soprattutto di ivana mary zelnikovva ovvero la prima moglie di donald trump dovrebbe trattarsi niente di meno che della star di sucession germy strong e di maria bacalova attrice candidata all'oscar 2021 per di come miglioratrice una protagonista per borratt 2 è recentemente apparsa anche in guardiani e recentemente apparsa anche in guardiani della galassia volume 3 per dare voce al cane cosmo anche anche se lei lo ha doppiato anche in guardiani in guardiani della galassia holiday special nel 2022 allora poi la sceneggiatura sarà scritta da gabby sherman anche autore del libro the loudest voice in the room che di recente è stato adattato nella miniserie tv con con russell crowe nei panni del fondatore di fox news roger hails che è l'altra figura profonda profondamente profondamente controverso nel panorama nel panorama americano la notizia di un film su donald trump arriva nei giorni in cui l'ex potus e a processo per frode è indagatore per numerosi altri 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 reati il due volte soggetto a in 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 passment tuttavia marcia sicuro verso la candidatura repubblicana per per le presidenziali del 2024 ovvero l'anno prossimo ok poi per sebastian stan prosegue una carriera fatta di tanti vari ruoli oltre al leader dei motley crew impersonato nella miniserie tv con lily james pam e tom mire che voi lo potete trovare su disney plus poi di recente noi noi abbiamo visto nei panni del seo della robin hood marcus in dump money di craig g spai dedicato al boom delle azioni di gamestop avvenuto tra il 2020 e il 2021 e in futuro noi lo rivedremo di nuovo come backburns h soldato in inverno in thunderbolts che che sarà il che che il nuovo film dei marvel studios quanto ci voleva un film su donald trump ciao ragazzi ciao ciao buongiorno a tutti io sono riccardo tucci e io sarà e oggi per il laboratorio ospitabile doppieremo la bella la bestia scena 3 gaston ma che bella sorpresa sono d'accordo io sono pieno di sorprese cyber non c'è ragazzi tutto il paese che lo vorrebbe essere nei tuoi panni questo sarà il giorno sì questo sarà il giorno in cui si avvereranno i tuoi sogni e tu cosa ne sai dei miei sogni gaston so tutto senti immaginati la scena una rustica casilla di caccia la mia ultima prada che rostisce sul fuoco la mia mogliettina che mi massaggia i piedi mentre i piccoli giocano sul pavimento con i cani naturalmente ne avremo sei o sette cani ma no bell ragazzi robusti come me immagina la scena e sai chi sarà quella mogliettina lasciami pensare tu bello gaston sono sono senza parole non so proprio cosa dire di che mi sposerai mi dispiace tanto gaston ma vedi io proprio non ti merito buongiorno a tutti io sono antonino e io davide e oggi vi porteremo la scena 1 di detective pikachu un cubon non lo catturiamo per te il pokemon vero cosa dimmi che non è un tuo piano jack ma cosa come dimmi che non l'avevi preparato ma come osi scusa certo che no ma dai ok può darsi c'era la luna piena ieri e mia madre l'ha sentito piangere come un vitello credeva che io avessi un incubo e mi ha portato un bicchiere di latte da bere senti pensavo che volessi stare insieme come vecchi tempi quando eravamo piccoli infatti però guardalo quello è il pokemon perfetto per te jack non sto cercando un pokemon te l'ho già detto ok ci ho pensato molto attentamente il tipo acco non va bene per te e neanche il tipo fuoco ma cubo è solitario esatto ok grazie jack grazie davvero ci sono altre verità emotive bomba che vuoi ritirarmi magari dopo però la verità è nelle mie mani grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di radio teatro 8 per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata